Deputato Busin, il governo, in particolare il ministro Saccomanni, dice che è in atto in Italia una piccola ripresa. Lei è d'accordo? Questa della ripresa è un po' una chimera che si tira fuori periodicamente. Si dice sempre che la ripresa è prossima a venire, la spostano continuamente nel tempo. Per i segnali che ho io dal mio territorio, il territorio vicentino, che è un territorio comunque molto industrializzato e che quindi rappresenta un buon campione di quello che è la parte più sviluppata del nostro paese, più industrializzata, direi che questa ripresa assolutamente non si intravede. Le ore di cassa integrazione non sono in diminuzione, né quella ordinaria né quella straordinaria, anzi c'è il problema di rifinanziamento perché pensiamo che in questo ultimo provvedimento del governo i soldi stanziati, i 500 milioni sul secondo decreto IMU, non siano assolutamente sufficienti. E registriamo una serie di crisi aziendali anche abbastanza preoccupanti come quella della FV di Beltrame, la Ciaierie, che è un'importante realtà storica anche del vicentino. In sofferenza si parla di un esubero di circa il 10% del personale, il personale sono circa 600 addetti e di questa questione in particolare penso che mi occuperò nei prossimi giorni con un'interrogazione al ministro e comunque in prima persona perché è una questione a cui sono molto sensibile.